L'avevo visto solo in cassetta, mentre oggi l'ho visto dal vero e mi ha fatto un'ottima impressione. Ho piacere che ho visto Marchetti di nuovo in grande forma e in grande condizione, le due cose che mi sono rimaste così positive. Purtroppo la notizia negativa che oggi ha un po' oscurato questa partita è stata la notizia di mercato, storica, rinnovato con il Cagliari e Lazio che ha sfumato l'obiettivo principale per la difesa. Ma questo non lo so, non posso fare dei commenti, non so se è vero o no, può darsi che l'abbia rinnovato, però lo conosco sicuramente, era sicuramente un giocatore che poteva servire a Lazio sicuro. La Lazio ha bisogno di innesti in difesa? Mi sembra che la società stia facendo anche dei passi verso questo tipo di caratteristiche, io sono convinto che il Presidente un paio di giocatori li prenderà sicuramente ancora. La vedo di corsa, la lascio andare però all'ultima, Eglidare ha detto che la Lazio punta dal quinto posto in su, che deve fare però per poter permettere questo e poter dare la chance a Pioli di riuscirci? No, la squadra mi sembra che sia a posto, adesso rientranno i nazionali, c'è solo da sistemare un po' dietro probabilmente, qualche ruolo dietro diventa importante, questo lo sapete bene perché è da una vita che si parla e pertanto se il Presidente chiude con queste operazioni penso che la squadra sia competitiva nelle prime cinque posizioni sicuramente, cinque o sei posizioni. Per me è stato sempre un ottimo allenatore, ottima persona, ottimo allenatore sicuramente, farà bene sicuramente. Sempre nel cuore, dove c'era Lazio c'era Eglia. No, sono venuto a salutare parecchi che non ho salutato e quando sono andato via allora mi ero ripromesso di venire a Oronzo salutare soprattutto i miei collaboratori. Vister, abbiamo visto prima, scherzava e rideva con Keita nella vasca del ghiaccio, che vi siete detto? Ho detto intanto che è dimagrito di un paio di chili e di mettere la testa a posto possibilmente. Grazie Vister, come? Il futuro qual è? Il futuro, barca, vela, mare e prendere il sole e bicicletta. Dirigente nella Nazionale? No, adesso no. Ciao.